il ciclismo per me è quella cosa che fino a oggi mi ha insegnato a vivere ha cambiato quello che sono prima era magari focalizzato sul solo pedalare forte sul solo vincere invece adesso il ciclismo è molto di più ed è quello che mi fa sentire vivo adesso grazie